Il nostro Vescovo Veschi la ringraziamo per la benedizione a tutti gli almennesi, anche quelli che sono stati presenti alla cerimonia e la ringraziamo anche per l'impegno per far mantenere attiva il nostro santuario. È un santuario tra i più importanti della nostra diocesi che attira ancora una grande devozione, una grande venerazione, oltre che rappresentare una storia, la storia della fede di tutta questa zona della diocesi. Però appunto conservare la storia non è il nostro impegno più importante, il più importante è che da questa storia ne nasca ancora una nuova storia di fede. Peraltro la devozione a Maria così forte oggi è particolarmente importante, sto pensando alle famiglie in un modo speciale, sto pensando a quel bisogno di pace che attraversa un po' tutta l'umanità. Quindi sono ben felice oggi di aver celebrato ancora nel santuario. Siamo più contenti noi che ci ha onorato della sua presenza.